oggi dove saremo capitati questo è un lago Omar riprendi questo lago qui laggiù c'è una grotta ormai sommersa dal lago e qui siamo in una zona impervia dove solo pochi sono riusciti a venire abbiamo ottenuto le chiavi di questo caseggiato abbiamo qui la finestra che è sfondata Omar riprendi mai nessuna telecamera è entrata in questo posto abbiamo avuto le chiavi ma anche stavolta queste chiavi non sono servite a nulla perché la porta è aperta è tutta scassata e sta crollando anche tutto dove saremo capitati Omar fai attenzione ci sono i travi si cascano sulla testa e potresti farti del male attenzione puoi scivolare Omar riprendi Omar siamo in un nuovo paese felice guarda che bellezza siamo primi al mondo a venire in questo posto sperduto è un posto magnifico mai nessuno è venuto in questo posto siamo gli unici al mondo a venire qui Omar riprendi riprendi tutto così il mondo potrà vedere quello che noi ammiriamo un posto che è un vero spettacolo guardate qua quanta bellezza in questi posti medievali risalenti al 1200 grande Omar stai attento riprendi tutto perché questo è un posto magnifico unico al mondo dove anche Rudy laggiù girottola buon appetito a tutti un posto unico già nel 600 si parlava del paese di isola santa Omar siamo fortunati oggi ad essere qui ciao a tutti